Taranto via Pio XII, siamo proprio di fronte a piazza Pio XII, ho voluto fare queste immagini di sera col calar del sole, proprio per farvi vedere lo stato di abbandono in cui versa un punto fondamentale, importantissimo, un sito importantissimo dal punto di vista archeologico. Parliamo della tomba a camera dipinta inizi III secolo avanti Cristo. Signori, questa è storia, è archeologia, l'amministrazione comunale Melucci ha abbandonato, ha calpestato la storia e la cultura perché già tenere sempre chiuso mattina e sera un sito del genere è uno schiaffo davanti allo sviluppo di Taranto. Guardate, il buio, lo squallore, pensate un po', qui dovrebbe essere aperto, dovrebbe essere illuminato a giorno, dovrebbe esserci il via vai di turisti, di visitatori, anche di mattina le scolaresche, nulla, il buio, guardate, volutamente, avrei potuto farla di giorno? No, vi devo far vedere di sera, il buio, lo squallore, la tristezza, ma non solo, non finisce qui, guardate, la sporcizia, la sporcizia, da settimane non si pulisce, da settimane, vi rendete conto? Vi rendete conto? Davanti a un sito archeologico, chiuso, buio e sporco, chiuso, buio e sporco e sei responsabile tu in prima persona, Rinaldo Melucci, perché tu hai voluto anche mantenere per te stesso la delega alla cultura, la delega assessorile, non che chi ti ha preceduto ha fatto chissà che cosa, anzi, però tu, caro Melucci, hai voluto essere così presuntuoso. Ma andiamo avanti, proseguiamo. Vedete? Altra sporcizia, sempre in una zona buio, facciamo rivedere Pino cortesemente il buio, il buio, andiamo, 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 qui dovrebbe esserci la luce, dovrebbe brillare la storia di Taranto, cosa vedete voi? Le tenebre, le tenebre, il buio assoluto, le tenebre di questa amministrazione Melucci. E andiamo avanti. Altra sporcizia, perché qui da settimane, se non da mesi, non si pulisce. Guarda la merda, guardate la merda qui, guardate, guardate, guardate. Da quanti mesi non si pulisce? Sindaco Melucci, presidente dell'Amiu Mancarelli, buio e merda, merda e buio. Questo è il quadro di Taranto. Le feci dei cani sono i cittadini incivili, non diamo colpa, ma all'amministrazione, ma guardate qui, guardate qui, guardate. Normale tutto questo? È normale questa sporcizia? Al buio penso di aver detto tutto. Io sogno una Taranto diversa, io sogno una Taranto, sì, lo dico, senza Ilva, certo. Una Taranto che viva di cultura, di storia. Dovremmo vivere di questo patrimonio, dovremmo brillare. E anziché la luce della storia, della cultura, del nostro orgoglio di Tarantini, di Taranto capitale della Magna Grecia, abbiamo la sventura di essere amministrati da Melucci e compagni. Questa è la loro immagine, vedete? Tanto valgono come amministratori. Chiuso un sito archeologico, un sito archeologico peraltro contornato di schifezze, di rifiuti che non vengono rimossi da mesi. Una sola parola, a nome di tutta Taranto, vergognati sindaco, vergognati, vattene a casa perché i danni che stai producendo a Taranto sono incalcolabili. Vai via!